Torna la rievocazione storica dell'assalto saraceno, quali sono le novità? Le novità a partire dal titolo, la nascita di Cirita Vecchia, assalto saraceno 2015, proprio per sottolineare la rinascita di questa città, quindi la voglia da parte dei Cirita Vecchiesi di ritornare sul mare e di fondare questa nuova città. E poi la location, non più al Pirgo, ma all'infiteatro della Marina. Come mai questo cambio di location? Beh, abbiamo visto che si presta molto meglio per il tipo di spettacolo che andremo a realizzare, quindi con l'arrivo delle imbarcazioni e poi diciamo che c'è un maggiore spazio per il pubblico che speriamo potrà godere al massimo di questa manifestazione. Quest'anno abbiamo voluto sottolineare con questo assalto la rinascita, la nascita di Cirita Vecchia. Sostanzialmente l'assalto saraceno è stato sempre visto come un evento negativo per la città. Quest'anno abbiamo lavorato su un aspetto invece positivo. Dal mare veniva la morte dei saraceni, dal mare arriva la speranza per una nuova città. Dopo gli anni passati a Leopoli, nell'entroterra, esiliati, il popolo ritorna per rifondare la città attuale che appunto ci vive da vecchia. Sono più di 100 comparse, sono molte realtà cittadini, la Compagnia Avanzi di Scena, il centro sociale della Magnani, la Proloco, gli istruttori Elmas di Marco Mattioni, quindi il maestro d'armi, gli arciari del mago, il mare nostro un 2000 e l'associazione Scura e Spada. Quindi come vedete sono tante associazioni, spero di non averle dimenticato nessuna, ma quindi l'importanza dell'associazionismo e dell'unione di tante forze per costruire qualcosa per tutta la città. Siamo contentissimi che si sia riuscito a realizzare questo evento, abbiamo dato il supporto necessario che l'amministrazione poteva dare, però comunque va evidenziato che questo è un evento della città, organizzato da cittadini con il supporto della Proloco e nasce da loro. E quindi è giusto che questo sia un evento che si riproponga anche negli anni a venire, al di là di cui sarà lì all'amministrazione.